Buongiorno ragazzi, oggi cercherò di offrirvi qualche spunto di avvicinamento ad un letterato italiano che è tanto noto quanto sconosciuto e spiego in che termini sconosciuto. Sconosciuto perché non può essere conosciuta, no? Qualcosa che deve ancora avvenire ed è proprio così che funziona la sua proposta di creatività che ancora oggi, a molti anni dalla sua scomparsa, è sempre valida, è attiva, è vivace ed è per questo che per qualche verso è incompiuta perché qualcuno potrà sempre perfezionarla e portarla più avanti. Gianni Rodari è un autore che con le sue opere ha divertito un'intera generazione di bambini, no? Quelli che sono nati diciamo tra gli anni 50 e degli anni, la fine degli anni 60, no? Perché è in quegli anni che lui opera e lavora e ha soprattutto creduto non semplicemente nel fatto di poter riuscire a divertire i bambini ma nel fatto che attraverso lo stimolare la creatività, la fantasia, l'uso della parola noi avremmo potuto realizzare un mondo migliore. Che cosa ci ha spinto a fare Gianni Rodari? Ci ha spinto a guardare la realtà con il filtro della fantasia e ci ha invogliato a cambiare l'ordine, l'apparente ordine delle cose per poterle vedere meglio. Pensate a quando magari invitati dall'insegnante voi vi mettete a studiare, ad affrontare lo studio di un argomento. Che cosa significa per voi studiare lo studio dell'argomento nelle nostre lezioni? Significa che una volta che avete la vostra paginetta, certamente il testo importantissimo, ma a partire da quei contenuti, da quei materiali che in questi anni si sono moltiplicati e sono miliardi oltretutto anche già confezionati sul web, dall'ordine in cui sono trattati questi materiali, voi potete ricostruire e cercare un ordine che è il vostro e grazie a questo vostro ordine che voi avete scelto con la vostra creatività voi potrete appassionarvi agli argomenti che affrontate e potrete ricordarli meglio. Perché sono in ordine ma partendo dal vostro personale e creativo ordine. Tante volte dobbiamo sforzarsi di pensare che molte cose di quelle che studiamo sono già state rielaborate. Sapete quanti materiali educational ci sono nel web attualmente? circa mille miliardi di contenuti educational. Quindi voi dite che me ne faccio io di fare qualcosa, prendo e copio. No, non è così. Seguiamo il consiglio di Rodari perché guardare la fantasia e guardare la realtà con il filtro della fantasia significa cambiare l'apparente ordine delle cose per poterle vedere meglio dal nostro punto di vista. Ed è questo il valore che noi sicuramente possiamo aggiungere anche alle cose già note considerando che ce ne sono sicuramente di quelle sconosciute che andiamo a conoscere. Ecco cosa può significare dunque lo spunto. Ma voi naturalmente in questa presentazione potrete trovare di più e di meglio questa presentazione che vi offrirà la riflessione sui contenuti proposti da Gianni Rodari. Potrete trovare di più e di meglio perché sappiamo che la stessa cosa può avere un senso molto differente a seconda di chi la guarda. Nelle fiabe, nei racconti, nelle filastrocche, lui è partito dalle filastrocche che scriveva a ritmi vertiginosi e quasi senza sosta, Rodari invita i propri lettori a non scegliere la facile strada di essere come tutti gli altri. Perché essere come tutti gli altri è facile, no? Si dice omologati. Ma essere omologati, guardo come è fatizio, faccio anch'io così, poi magari non mi piace tanto, però è più comodo, così so come fare. No, non bisogna essere omologati, ma cercare anche a costo di sbagliare, di capire qual è la nostra strada, qual è il nostro modo di affrontare la realtà. Proprio come in un gioco, quindi, noi possiamo cercare di montare, smontare, rimontare le nostre storie. pensate che nel 2017 la normativa relativa alla secondaria di primo grado propone come prova d'esame una tipologia di testo che è quella della riformulazione di un testo dato, tanto per darvi il polso, per tastare il polso, a quella che è stata la circolazione di idee che ha messo in moto Gianni Rodari, no? Lui ha proposto la riformulazione e noi adesso abbiamo la riformulazione, diciamo, prevista come tipologia di prova d'esame da un paio d'anni. Quest'anno è pazienza. Quelle costruite da Rodari sono storie, e qui faccio riferimento a Italo Calvino, dove ci piove dentro. Sono storie ricche di fantasia. Provate a pensare perché dove non ci piove è una cosa sicura, no? Ma invece qui facciamo proprio il contrario. Noi vogliamo costruire delle storie dove ci piove dentro, quindi ricche di fantasia. E sono tali queste storie per cui anche gli errori non vanno corretti perché, lo sappiamo, abbiamo detto tante volte a lezione, l'errore è propedeutico e sbagliando si impara e gli errori diventano veri e propri protagonisti. Per Rodari, che spiega bene il perché, nel suo libro degli errori, lo vedremo poco più avanti. Ma qui mi piace citare una frase, signori e signori, venite a visitare il museo degli errori, delle perle più rare. In questo paese strambo troviamo i gati, degli animali strani che hanno un baffo solo e tre gambe, e luoghi come la Lamponia, un paese dolcissimo che sa di marmellata e di sciroppo, e anche un tribunale dove un signore viene processato per avere scritto che, guardate come è scritto, lo zio è il padre dei vizi, invece che con l'apostrofo diventa tutta un'altra cosa. Quindi l'errore può offrirci spunti per vedere altre cose, per costruire nuovi significati. Quindi questo paese degli errori è un paese anomalo, lui Rodari scrive, è un paese che se non esiste esisterà, perché potrete essere voi giovani e renderlo possibile nel bello e nel buono, come riterrete che possa essere, con un po' di fantasia. Per accedere a questo mondo della fantasia bisogna però partire dalla realtà, ed è questa la realtà che riguarda il nostro Gianni Rodari. In un giorno di autunno, ottobre del 1923, a Domegna, sul versante piemontese del lago d'Orta, come vi ho inserito in una cartina, nasce Gianni Rodari. Suo padre ha una panetteria nella centralissima via Mattini. Da questa panetteria, essendo suo padre panettiere, campavano lui, la moglie e anche i tre figlioli, perché lui era già sposato prima e poi aveva sposato la mamma di Gianni in seconde nozze. Gianni in questi anni semplici, voi pensate agli anni 20, no? Al 23, gli anni 20 comunque sono, la realtà sicuramente era molto differente da quella che è attualmente e sicuramente non esisteva il televisore, quindi le persone la sera, Gianni e i suoi familiari compresi, si riunivano intorno al focolare. Ed è lì che Gianni Rodari ascolta le prime storie, ed è lì che si appassiona alla narrazione, conquistato da questi racconti degli anziani intorno al focolare. Non aveva compiuto però dieci anni che il padre purtroppo muore e anche in circostanze abbastanza, insomma, roccambolesche, se si può dire, no? Di una disgrazia, perché in realtà una sera, che un gatto nero si era abbarbicato sopra un albero, lui si era trovato a stare per cercare di salvare questo gattino molto tempo sotto la pioggia e per questa isciustura, diciamo noi nella nostra lingua, chi mi capisce potrebbe essere sardo, per l'essersi, insomma, in italiano infradiciato, si era gravemente ammalato, aveva contratto una polmonite che lo portò poi alla morte. La mamma allora di Gianni, che abbiamo detto era la seconda moglie del panettiere, si fa carico certamente, senza dubbio, anche degli altri due figli del papà di Gianni e decide, per cavarsela meglio, di tornare al proprio paese nativo che è Gavirate, nel Varesotto. Anche il padre di Gianni Rodari era originario infatti della provincia di Varese. A Gavirate Gianni vive da quando ha dieci anni, dal 1930 al 1945, quindi a guerra finita, la seconda guerra mondiale si conclude nel 1945 e lì seguita con successo le scuole che aveva lasciato a Umegna. Era magrolino, molto riservato, schivo, non aveva tanti compagni, tanti amici e per frequentare il ginnasio allora il ginnasio era composto delle cinque classi e in sostanza dovete farvi il conto che le prime tre, diciamo, fossero al posto di quella che poi è la nostra scuola media. La nostra comunque, insomma, da quando è stata istituita negli anni sessanta, la scuola media, ha preso il posto dei primi tre anni del ginnasio, tanto che rimangono la quarta e la quinta ginnasio per chi sceglie il liceo classico dopo i tre anni della scuola media. Chi ha fatto il classico lo sa. Lui entra, stiamo dicendo, in seminario a Seveso per frequentare i primi anni del ginnasio. È il 1931 e questo ragazzino ha 11 anni, però è un alunno che già si distingue. Dopo avere concluso il ginnasio a Varese, al momento di scegliere la scuola superiore, ci si sarebbe aspettato che, visto il suo rendimento, vista la sua passione per lo studio, allora si diceva così, si usava così, avrebbe scelto un liceo e invece Gianni sceglie, pur brillante, di frequentare le scuole magistrali. Era un ragazzo attivo in questi anni su diversi fronti, tanto che nel 1935 era già presidente dell'azione cattolica, guardate, un'associazione che fu l'unica a resistere in tutto il periodo della guerra dove erano oppure vietate le associazioni, ma questa è storica proprio l'azione cattolica, e lui naturalmente che ha un desiderio di partecipare alla vita sociale diventa presidente dell'azione cattolica del suo paese e per questo nel 1936 potrà pubblicare otto racconti su un settimanale cattolico che è l'azione giovanile e inizierà anche a collaborare con un altro periodico cattolico che si titola luce. A soli 17 anni ha in tasca il diploma magistrale, ha una mente vivace, è desideroso di apprendere e tra i suoi hobby c'è anche la musica. Per tre anni infatti seguirà persino lezioni di violino. Nel 1939 si iscrive all'università a Milano, ma non arriverà a essere laureato perché termina di frequentare il corso universitario solo un anno dopo che vi si è iscritto. Nel frattempo però si dà molto da fare e nel 1941 vince un concorso di ruolo e comincia a lavorare come maestro. Sono anni terribili per tutti e anche per Gianni Rodari che in guerra perse alcuni degli amici più cari e nel 1943 addirittura dovrà tollerare, sopportare senza nulla potere l'internamento del fratello Cesare in un campo di concentramento in Germania. Subito dopo la caduta del fascismo che avviene in Italia, una notte tra 24 e 25 luglio del 1943, quindi con la caduta del fascismo, Gianni Rodari si avvicina al Partito Comunista e nel 1944 partecipa alle lotte della resistenza, come lui anche altri autori, penso a Calvino per esempio, che accomuno a Gianni Rodari per il fatto della fiaba, ci arriviamo. Fino a quando nel 1947, quando ormai la guerra è finita da due anni, viene assunto nella redazione di un giornale e questo giornale è l'Unità ed è grazie a questo lavoro, all'Unità che finalmente quando finisce con il lavoro lui potrà dedicarsi per ore e ore agli studi che ama tantissimo e allora mi dice perché ha lasciato l'università? Perché doveva aiutare la famiglia a mantenersi e non poteva essere mantenuto agli studi dalla propria famiglia ma doveva contribuire a farla andare avanti? Qui ho fatto una carrellata di date perché serve un po' ad orientarci come una sorta di linea del tempo che ci agevola nel percorrere questo cammino di Gianni Rodari via via che proseguiamo nel racconto. Come si vede negli anni 50 è all'Unità ed è dall'Unità, dalla testata di questo giornale quotidiano che parte per la Russia perché nel frattempo una delle sue pubblicazioni che è Cipollino e viene pubblicato in Italia per la prima volta nel 1950 lo ha fatto diventare famoso in Unione Sovietica ed è in Unione Sovietica che se lo cerchiamo lo troviamo nel 1952 perché è lì che è arrivato nel novembre del 1951 ed è proprio in Unione Sovietica che i suoi primi libri come per esempio il romanzo di Cipollino, il primo primo era stato il libro delle filastrocche, riscuotono un successo enorme se pensate che questo Cipollino ancora oggi nei paesi dell'ex blocco sovietico è conosciuto. Ebbe Cipollino un successo strepitoso in molti paesi dell'est europeo e dunque fu tradotto in russo completamente nel 1953 come stiamo dicendo da un autore che si chiama Zlatapotapova e nello stesso anno parte di questo racconto di Cipollino arriva anche in Cina tradotto non dall'italiano ma dal russo su il quotidiano la sera del popolo e poi arriva in altri paesi dell'est come la Lituania, la Lettonia, la Polonia e persino il Giappone. Ecco a chi si è ispirato Murakami, comunque può essere perché gli anni ci sono, sono quelli. Le edizioni cinesi delle avventure di Cipollino anche adesso continuano e sta di fatto che insomma lui ancora oggi continua Rodari a essere tradotto in Cina da diverse case editrici. Cipollino era un bambino cipolla che viveva nel regno della frutta e degli ortaggi. Anche se Cipollino era molto povero, infatti non aveva né una casa né un soldo, era sempre allegro e pronto ad aiutare gli altri. Grazie Cipollino, di niente! La vita era difficile nel regno perché tutta la terra era di proprietà della famiglia reale del ciliegio. Un giorno Sorzucca cercò di costruirsi una casa. Con un semplice mattone la casa mi farò. Non avrà un gran salone, io questo già lo so. E con due semplici mattoni un muro costruirò. Non saranno rose e fiori ma mi accontenterò. Il mio più grande sogno è avere un tetto su di me che mi ripari pioggia e vento. Anche se piccolo sono contento. Ciao Zucca amico mio! In onore della tua nuova casa ti ho portato un piccolo regalo. Ecco, è un solido mattone. Non ce ne sono di migliori. Avanti, prendilo, avanti. Oh no! La paura di Mastro Uvetta era giustificata perché stava arrivando il reale esattore delle tasse, il Cavalier Pomodoro, che era acido e cattivo. Succa vuota di un evasore! Hai costruito su un terreno che non ti appartiene! Lo dirò al generale Limone, ti farà imburrare e cuocere al forno! Esci subito da quel manufatto abusivo! Abusivo che non sei altro! La vostra rotondità, il conte Cigliagione mi rilasciò al permesso di costruzione. Silenzio! Il nome per conto della reale famiglia del Cigliagio! Io requisisco questa Attenberg! Diventerà la cuccia del mio cane, il terribile Mastina! Ne sarà un ladro! Quale ladro? Non vedo nessun ladro qui! Vi accontento subito vostra sugosità, eccolo! Torniamo in Italia e in Italia scopriamo se ci viene la curiosità di andare a controllare nel catalogo della Biblioteca Nazionale di Roma, scopriamo che questi primi libri di Rodari non risultano in catalogo. E perché? Perché furono pubblicati in Italia per una cerchia specifica di pubblico e cioè i lettori dell'unità e da editori non diciamo nazionali ma di parte per qualche verso. Ecco perché non troviamo sul Catale. Se consideriamo il successo internazionale teniamo conto anche di questo particolare che questo successo di Gianni Rodari cominciò quasi per gioco ragazzi perché in occasione del compleanno della figlia di un suo direttore Gianni è premuroso e quindi dedica a questa bambina una filastrocca. Piacque tanto questa filastrocca che il direttore lo incoraggiò a continuare su questa strada e lui allora tiene proprio una rubrica per bambini e poi addirittura arriverà alla direzione di un giornale specifico per ragazzi. Nel 1953 intanto sposa Maria Teresa Ferretti ed è nel 1957 che nasce la sua unica figliola Paola. Ed è forse proprio grazie al contatto diretto con la propria figlia che lui incrementa la produzione per bambini. È una produzione attraverso la quale viene incontro alle esigenze proprio di tutti i bambini perché a casa ha la possibilità di testare i suoi prodotti e a cominciare infatti dagli anni sessanta del novecento pubblica per case editrici internazionali quindi si affrancano da quel pubblico limitato al quale in un certo senso lo vincolavano delle case editrici di parte. In questo periodo abbiamo come vedete il manuale del pioniere perché lui arriva alla direzione di questo di questa rivista. Che cosa contiene il manuale del pioniere? È una sorta di proposta di quello che oggi più colti chiamano learning by doing ma con Rodari noi possiamo affermare che lo spunto è italiano cioè imparare facendo ed è proprio questo che Rodari propone attraverso questo manuale. Il fatto che i ragazzi possano imparare facendo, imparare incuriosendosi della realtà. C'è il famoso esempio del tavolo, noi vogliamo imparare qualcosa allora andiamo a vedere di che cosa è fatto questo tavolo ma andiamolo a vedere sul campo e poi capiremo come cresce l'albero e poi capiremo come l'albero viene trattato perché noi possiamo ricavarne il legno e poi tutto il resto. Guardate che c'è la famosa canzone per fare per fare l'albero ci vuole un fiore quella la scritta Gianni Rodari e poi la cantata Sergio Endrigo. Io la ricordo molto bene. Ve ne metto un pezzettino. per fare un tavolo ci vuole l'albero ci vuole il seme per fare il seme ci vuole il frutto per fare il frutto ci vuole un fiore Bene nel manuale del pioniere troviamo scritto che sarebbe utile organizzare i ragazzi in reparti e gruppi attorno ad attività di ogni genere che siano adatte alla loro età da quelle ricreative e sportive a quelle culturali ed artistiche i famosi laboratori no ragazzi ed è conveniente che i ragazzi siano educati attraverso l'incanalamento della loro naturale sete di movimento e di novità bisogna sfruttare la loro gioia di scoprire di fare e incanalarla in attività utili alla formazione di un cittadino che rispetti il lavoro ami il suo paese e ami la pace la famiglia lo studio e abbia fiducia nella vita e nell'avvenire e che si senta fratello e solidale con tutti i popoli della terra il primo biografo di rodari marcello argilli sostiene che rodari è stato il primo scrittore a portare il lavoro nella letteratura per bambini dove insieme alle favole con gli ortaggi che parlano grazie a rodari ci sono anche tutti i mestieri è la prima volta che i mestieri compaiono nella letteratura per bambini e quindi c'è questo tratto di unione tra il mondo degli adulti e il mondo dei bambini che si condivide in casa perché quando il bambino è a casa e sta svolgendo i compiti aspetta di finire perché poi ritorna papà oppure la mattina il bambino saluta papà e mamma naturalmente prima di andare a scuola no e quindi c'è questo legame con il lavoro e perché non fare partecipe il bambino attraverso il linguaggio che gli è proprio di questi mestieri ed ecco che rodari lo fa attraverso la famosa filastrocca dei mestieri tra i molti testi citiamo la freccia azzurra per esempio della quale vi mostro un rapido video però prima voglio accennarvi alla trama se per caso non la conoscete perché voi siete nati dopo gli anni 90 e quindi forse non avete avuto occasione di vedere il film di enzo dalò la freccia azzurra il testo che è servito per la sceneggiatura del film è proprio tratto dalla pubblicazione di gianni rodari che si intitolò nel 1964 perché l'aveva già pubblicato una volta negli anni 50 la freccia azzurra si tratta di un bambino povero un bambino che aspetta natale perché vuole ricevere dei regali è felice di ricevere dei regali e quindi vede in una vetrina questo trenino molto bello elettrico e entra dentro perché lui ha scritto la letterina alla befana dicendo che lui voleva una cosa soltanto non tante cose voleva proprio quel trenino lì la freccia azzurra e ragione per la quale lui si sente autorizzato ad entrare dentro il negozio e a prenderselo questo trenino perché la befana è stata informata ma le cose in realtà non vanno così perché il proprietario del negozio molto severo e arcigno e anche maleducato lo caccia via malamente dicendo che non servono le letterine ma servono i soldi ecco per questo il bambino figuratevi mortificato e quindi se ne va con il dispiacere nel cuore ma lo aiutano i giocattoli perché i giocattoli scappano dal negozio di giocattoli e da quel signore antipatico e lui sarà rapito da un bambino che invece era ricco e al quale avrebbero potuto comprare dei giocattoli e diciamo istigato a rubare ma francesco si chiama così il protagonista della freccia azzurra protagonista umano della freccia azzurra si sottrarrà a questa a questo soppruso e non si presterà a rapinare proprio un bel nulla e farà bene perché realmente poi lui riuscirà a fare in modo che i giocattoli vengano distribuiti nelle case di tutti i bambini più poveri e più bisognosi e la freccia azzurra non andrà a lui però c'è una piccola sorpresa nel finale perché quello che era stato il suo cane giocattolo tornerà a lui in conclusione come un cagnolino vero e quindi diventeranno amici e saranno in compagnia e francesco diventerà l'aiutante della befana cara befana lo so che sei molto occupata e hai tantissimi bambini da accontentare perciò io ti chiedo soltanto un giocattolo la freccia azzurra questo è il suo vero Dal 66 al 69 Gianni Rodari non pubblica libri perché gira per le scuole collaborando con i maestri, con le maestre, per l'educazione dei bambini. Per esempio uno dei luoghi dove lui opera maggiormente è proprio Reggio Emilia, dove poi nel tempo è stato anche portato avanti il famoso asilo d'avanguardia, l'asilo Diana mi sembra di ricordare che si chiami, dove appunto c'è una proposta didattica a partire proprio dalle soluzioni diciamo trovate da Gianni Rodari nell'ottica dello sviluppo integrale del bambino. Dopo aver lasciato negli anni 70 il suo giornale, che era in quel periodo Paese Sera, ne cambia diversi, perché non si può fare tutto e lui era preso da mille impegni, nel 1970 vince il premio Andersen. Abbiamo letto qualche volta noi dei libri che sono stati premiati con l'Andersen, però vi invito qui a distinguere i due premi, perché c'è il premio danese Andersen che da tempo premia gli autori e seguito poi dopo la sua istituzione è arrivato a premiare anche gli illustratori, invece il premio Andersen italiano, che è posteriore, premia i libri, anche gli autori, però in particolare nello specifico i libri in base alle fasce anche di età di lettura. Quindi figuratevi a che livelli arriva Gianni Rodari in quegli anni per conseguire questo celeberrimo premio che corrisponde in sostanza al Nobel per la letteratura degli illustratori, infanzia. Certo il premio accresce la sua notorietà, ma è vero anche il contrario, che lui consegue il premio perché ormai era davvero famoso e le sue opere diffuse. Tra il 66 e il 69 realizza anche per la televisione un programma per bambini che si intitola Gioca Gio. E' un programma che è antesignano di quei programmi che magari vi è capitato di vedere come Art Attack e infatti lo scopo di questo programma era proprio insegnare in un modo divertente, in un modo spensierato, leggero, delle piccole attività pratiche, manuali, del fai da te, costruzione di giochi semplici, per esempio con il cartone piuttosto che con i giornali, l'assemblaggio di bottoni oppure l'utilizzo di forbici e di colla per mettere insieme chissà quali figure ritagliate. Si proponeva anche la cura delle piante, si proponeva l'attenzione per i fiori, per gli animali e si realizzavano in questo programma Gioca Gio anche piccoli esperimenti scientifici. Guardate che ancora adesso la domenica lo fanno, su Rai 1, su Rai 2, sono esperimenti molto molto interessanti perché sono riproducibili anche in casa con delle sostanze che sono chimiche ma noi ora abbiamo a disposizione in casa e soprattutto ci dice come fare questo tipo di esperimenti, di piccoli esperimenti in sicurezza, il piccolo chimico, magari qualcuno di voi ce l'ha avuto come gioco. Questo programma era completamente realizzato in studio, lo studio era una casa che era stata ricostruita al centro di produzione Rai di Roma e i conduttori avevano a disposizione un grande tavolo con una quantità di materiale che sono quelli che voi utilizzate a casa quando dovete realizzare qualcosa che vi prende particolarmente. Pennelli, pastelli, matite, no? Erano questi colorati però la trasmissione a quell'epoca era ancora in bianco e nero perché il colore arriverà nella prima metà degli anni 70 in televisione. C'erano come arredo delle scatole e poi c'era un cestone pieno di giochi come quelli che potete vedere nelle scuole materne, dei vasi di fiori, degli animaletti domestici. Avete visto poi è stato ripreso in programmi, prendete striscia la notizia per esempio dove circola questo cagnolino, di volta in volta cambia perché se cresce troppo non entra nell'inquadratura. E lì anche a Giocagio c'erano canarini, una coppia di canarini, una coppia di pesciolini, un gatto e un coniglio. In fondo alla scenografia stavano tre finestre di forma diversa. Ce n'era una rotonda che si apriva sul mondo di piccoli oggetti realizzabili già allora pensate con materiali di riciclo, negli anni 70. C'era una finestra quadrata che affacciava su un giardino e da quella si spiegava come si curano le piante e gli animali da compagnia. E c'era l'ultima ad arco che era dedicata a questo affascinante mondo delle esperienze chimico-fisiche, chimico-fisiche che si potevano riprodurre in casa. Per esempio si poteva sagomare a barca un cartone, incastrargli sul retro delle scaglie di sapone e poi farlo navigare magicamente come un piccolo motoscafo nell'acqua della vasca da bagno. Negli anni 60 e 70 stavamo dicendo Rodari partecipa a conferenze e incontri nelle scuole con gli insegnanti, ma anche con i bibliotecari, con i genitori, con gli alunni. Guardate che le biblioteche nascono proprio in quegli anni 70 a favore di tanti alunni, di tanti ragazzini che hanno potuto frequentarle. Tutti i giorni entrando e uscendo dalla biblioteca comunale perché lì potevamo riunirci a gruppi. Se noi avessimo una fantastica come abbiamo una logica avremmo scoperto l'arte di inventare. E' una frase di un poeta tedesco che si chiama Novalis e questa frase segnò molto l'immaginario di Gianni Rodari e per lui andare alla ricerca di questa fantastica, di questa disciplina, mettere le basi per questa disciplina fantastica, indicare alcuni punti fermi di questa fantastica, fu il pensiero che lo accompagnò e che hanno sfruttato generazioni di bambini nella scoperta e nella costruzione di un mondo nuovo. Se intendiamo permettere al bambino di diventare un uomo adulto, serve guidarlo, indirizzarlo, a coltivare, ad allenare, a liberare la fantasia. E' questo che pensa Gianni Rodari e pensa anche che con la fiaba noi possiamo entrare nel mondo non dalla porta, come fanno tutte le persone normali, ma possiamo entrare con la fiaba nel mondo dal tetto, dal camino, dalla finestra. Pensate alla fortuna di Harry Potter che può viaggiare attraverso il camino con la polverina magica. E avrete colto che cosa intendo dire, no? Cioè per gustare meglio e di più la realtà, per indagarla meglio, la fantasia aiuta tantissimo. Per questa sua convinzione Rodari dedicò la sua vita a dare una forma al mondo fantastico dei piccoli, mescolando la varietà del mondo con le infinite possibilità del linguaggio. Gioca con le parole Rodari. Rodari nel panorama della letteratura italiana è l'autore che trasforma la fantasia in uno strumento indispensabile, suggerendo, invogliando, stimolando alla produzione fantastica. Perché lui vuole che attraverso l'apprendimento dell'uso della parola, i ragazzini possano diventare soggetti attivi nella società. E questo si ha se uno sa utilizzare le parole. E come arriviamo a sapere utilizzare le parole? Giocandoci, non avendo paura di utilizzarle e di cercare modi nuovi per utilizzarle. Nella sua Grammatica della fantasia, che è un libro che ha come sottotitolo Introduzione all'arte di inventare storie, ed è un collage di tutti gli interventi, oppure di parte degli interventi comunque che lui fece in giro per le scuole, come abbiamo detto, confrontandosi con maestri, con le bibliotecari, eccetera. Lui raccoglie, diciamo, queste informazioni che aiutano ad utilizzare in modo creativo le parole. Che cos'è il binomio fantastico? È uno dei metodi che Rodari ci suggerisce per riuscire ad utilizzare le parole in modo creativo, per riuscire a prendere confidenza con le parole. E lui spiega che non basta un polo elettrico solo a suscitare una scintilla, ce ne vogliono due di poli. E allora, se è vero che esistono le parole, però le parole hanno poco senso staccate una dall'altra. Questa scintilla può nascere solo quando due parole si incontrano. Una incontra l'altra, provocandola e costringendola ad uscire dai binari dell'abitudine. E' così che si scoprono nuove capacità di creare significati nuovi. Dice Rodari, non c'è vita dove non c'è lotta. Questo dice Gianni Rodari nella sua Grammatica della fantasia, che viene pubblicata nel 1973. 173. Ogni singola parola può ispirare. Ma una storia, dice Rodari, nasce soltanto se si crea un binomio, che deve essere un binomio fantastico, cioè un incontro-scontro tra due termini che sono apparentemente estranei uno all'altro. occorre, per creare questo contatto, che le parole siano sufficientemente distanti tra loro. Perché solo così l'immaginazione si può mettere in moto. Non abbiate paura delle parole. Piuttosto cercate di farne un uso positivo, creativo. Le parole vanno usate, rigirate, smontate, costruite, comprese, se vogliamo creare modi nuovi di usarle. Mondi nuovi. Se io penso, per esempio, a specchio, e tu, che mi stai ascoltando, pensi a bambina, potremmo combinare le due parole. Una bambina con uno specchio, che ci fa? Si specchia. Ma, se io cambio, una bambina su uno specchio, aiuto, riuscirà a reggerla lo specchio? Non sarà troppo pesante? Magari si rompe lo specchio, bisogna che faccia attenzione. Oppure, una bambina in uno specchio, o mamma, è rimasta dentro, come nella storia Alice nel Paese delle Meraviglie, che però era già stata scritta così. Una bambina di specchio, come sarà dedicata? E cosa fa dentro? E cosa fa essendo uno specchio? Riflette l'immagine che le rimandano gli altri, quindi in qualche modo non è se stessa. Uno specchio in una bambina, magari la bambina si è mangiata lo specchio. Tante, tante le combinazioni attraverso le quali possiamo stimolare il nostro pensiero e mettere in moto l'immaginazione. Per esempio, possiamo associare nomi e aggettivi, avevamo associato prima nome e nomi, oppure nomi e azioni. E anche lui teorizzerà in questo testo l'ipotesi fantastica, a cui dedicherà un capitolo a parte, e che è un binomio nel momento in cui ipotizza che cosa succederebbe se le case fossero senza finestre, tanto per dirne una. Rodari quindi cerca di giocare con le parole, con le immagini, e ci invita a farlo, non perché tutti diventiamo artisti, ma perché nessuno di noi sia schiavo di qualcun altro, perché non era in grado di pronteggiarlo a parole, con calma, a parole. A ritorno da un viaggio in Unione Sovietica che compì nel 1979, Gianni Rodari, vuoi per la mole di lavoro che affrontava quotidianamente, vuoi per la sua costituzione fisica, che da sempre era delicata, dopo un intervento chirurgico, al cuore, il 14 aprile del 1980, concluderà la sua vita. Rodari muore che aveva 60 anni tondi, e quindi era giovane, ma le sue opere, in particolare quella che scrisse sul varone Lamberto, restano a rassicurarci sul fatto che, fino a che pronunceremo il suo nome, Gianni Rodari, Gianni Rodari, Gianni Rodari, non morirà mai, e con lui il suo entusiasmo, per le fantastiche sorti progressive, ci ricorderà sempre che, di imparare, non si finisce mai. E del resto, lo dicevano anche i greci, intendiamoci, Gherasco dei Polla di Daskomenos, che significa, invecchio, imparando sempre molte cose. E Rodari ci fa notare, che le cose più importanti, sono quelle, che non conosciamo ancora. Dunque, con tutto questo bagaglio, che ci lascia Gianni Rodari, possiamo avventurarci, come quel giovane, di cui l'autore racconta, il quale giovane, intenzionato ad imparare a camminare in avanti, se ne va per il mondo in cerca di fortuna, e benché, tutti continuino a ribadire, che quelli della sua specie, perché è un giovane gambero, devono procedere all'indietro, continua a camminare per la sua strada. E Rodari non cede alla tentazione, di fare finire la storia, con il raggiungimento, di una meta precisa, e definitiva, ma conclude il racconto, in questo modo. Andrà lontano? Farà fortuna? Raddrizzerà tutte le cose storte, di questo mondo? Noi non lo sappiamo, perché egli sta ancora marciando, con il coraggio, e la decisione del primo giorno. Proprio come noi ragazzi, che fuori di qui abbiamo tutto un mondo che ci aspetta, da esplorare, da gustare, da vivere, per essere sempre più felici. In conclusione quindi, Rodari al gambero, e io a voi, auguro ragazzi, di tutto cuore, buon viaggio! Pila strocca impertinente, Chi sta zitto non dice niente, chi sta fermo non cammina, chi va lontano non si avvicina, chi si siede non sta ritto, chi va storto non va dritto, e chi non parte in verità, in nessun posto arriverà.